ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video allora è solo per dirvi ragazzi spero che non vi siate persi il time trial organizzato da Umberto Noto quello della settimana scorsa in cui ci ha fatto sfrecciare sul circuito del Mugello con una spettacolare F310 Ferrari ovviamente degli SR Formula spero vivamente ragazzi perché ci siamo stra divertiti hanno partecipato oltre 200 e passa piloti per oltre 6.000 e passa giri fatti è stato veramente molto bello una sfida apertissima al centesimo di secondo io sono veramente molto soddisfatto perché su 200 piloti sono entrato nella top 15 se non sbaglio ma la cosa più bella è stato diciamo la sfida tra David Fire Tempest o David Fata per chi lo conosce e Sim Racing Underground Tony Perrone ragazzi che se le sono date di santa ragione io vi invito a guardare il video che vi metterò da qualche parte qua di Tony in cui oltretutto dà delle spiegazioni su come affrontare il Mugello un vadevecum insomma di come si affronta il Mugello quali sono appunto secondo lui le traiettorie ideali e onestamente ha fatto un ottimo tempo quindi io andrei a vederlo e in più vi segnalo anche il video di GP2 e siamo ad Imola ve lo dico subito setup fisso rispetto a prima che era con la F310 libero perché qualcuno si è un po' lamentato ragazzi mettetelo fisso qua là magari qua là quindi fisso attenzione molto molto nervosa l'unica cosa che potete andare a modificare è il break balance o meglio la ripartizione di frenata se preferite ragazzi la sede è aperta ragazzi ovviamente non si c'è nulla se non il piacere di andare a confrontarsi con altre persone che sono appassionate come noi di sim racing e devo dire la verità che assetto corsa il buon assetto corsa si presta molto bene a questo tipo di attività cosa aggiungere ragazzi vi lascio tutto quello che è necessario qui sotto per poter accedere al server è tutto gratuito e ovviamente il link al video di Umberto Noto che ringrazio personalmente per questa bella iniziativa di questa settimana sta già studiando la prossima quindi ragazzi cosa aspettate correte sul server di Umberto andiamoci a confrontare e ovviamente entrate sui canali discord che trovate sia qui su sim drivers che mi pare sul canale di Umberto insomma ci troveremo ragazzi e ci passeremo i discord quindi non vi preoccupate mi raccomando scrivete nella chat del server così possiamo comunicare niente io vi aspetto sul server ci vado adesso vado a provare a fare qualche tempo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao ci vediamo a Imola